Siamo insieme alla dottoressa Caterina Di Santi, ci troviamo ad Atena Lucana, nei nuovi studi medici di Santi, una nuova realtà del territorio del Vallo di Diano, dottoressa che offre tanti servizi innovativi agli utenti, ai cittadini del Vallo di Diano. Sì, gli studi medici di Santi che si trovano ad Atena Lucana vogliono offrire i servizi a 360 gradi dal punto di vista della sanità al paziente, il paziente entra e deve aver risolto i propri problemi, basta immaginare l'uomo come una grande macchina, un meccanismo complesso composto da tante rotelle, se si inceppa una rotella allora tutto l'intero sistema non funziona. Ecco qua che io assieme ad altri medici di tante altre discipline mediche vogliamo risolvere i problemi di un paziente. A proposito di questo non c'è appunto solo uno studio odontoiatrico qui ma si pensa un po' come diceva lei al paziente a 360 gradi, quindi c'è insomma un dottore, un locobedista ma si pensa anche ad esempio agli amici degli uomini, gli animali, in particolar modo c'è un servizio di pet therapy e tanto altra ancora. Si può affrontare la paura anche con i nostri amici a quattro zampe, magari diversamente abili, malati di Alzheimer, ma anche chi voglia affrontare la paura del dentista o del dottore può farlo in una saletta dedita apposta, può stare con gli animaletti a quattro zampe per affrontare la paura ma poi possiamo effettuare anche interventi anche in anestesia totale, in sedazione totale, anche un altro metodo alternativo di affrontare tra virgolette la paura. Insomma ci sono diversi servizi, per esempio la logopedista con l'otorino laringoiatra che il 22 marzo prossimo saranno qua presenti in struttura proprio per visitare il paziente in equip. Se ci sono dei problemi di disfonia o pertinenti all'otorino laringoiatria, ecco verranno visitati in equip. Basti pensare anche per esempio quante volte il paziente con il dolore riferito in una zona come per esempio dell'orecchio spesso vengono da me, non sanno se andare dall'otorino o se è un problema di pertinenza di articolazione temporomandibolare, devo andare dall'otorino o dall'ognatologo. Ecco qua abbiamo tutte le figure che servono. A proposito di questo, lo studio medico di Santi cura anche molto la prevenzione. Abbiamo detto della giornata del 22 marzo, ce n'è anche un'altra in programma nel mese di aprile. Il mese di aprile e il 6 di aprile saranno presenti nella struttura la nutrizionista e la psicologa per valutare disturbi comportamentali nei riguardi dell'alimentazione. Quindi si visiterà in equip il paziente che avrà l'esigenza di capirne di più da questo punto di vista. Dottoressa Di Santi, gli studi medici di Santi possono vantare la collaborazione di un'importante equip costituita da medici di fama. Quali sono i servizi che vengono offerti a parte naturalmente quelli legati all'odontoiatria? Sicuramente abbiamo un medico valido che viene dalla scuola di Umberto Veronesi di Milano per quanto riguarda l'endocrinologia, specialista nella tiroide ma nell'endocrinologia in generale. E poi per quanto riguarda la chirurgia verrà mio padre che è esercito in Toscana da 40 anni, ha anche inventato un tipo di impianto particolare più di 20 anni fa, un impianto dentale, ma sicuramente mi occupo della gestione del paziente difficile, quindi i pazienti che assumono particolari farmaci o che hanno diverse abilità nella collaborazione, anche per questo spesso si devono effettuare insedazione totale, oppure effettuiamo anche biopsie di lesioni cancerose e precancerose orali. Grazie a tutti!